Ciao a tutti, buongiorno. Ecco ancora un video legato ai profumi. Noi siamo adesso nel mio centro a Mendrisia in Svizzera perché nel mio centro ho tantissime colline che attirano molta attenzione dai miei studenti. Visto che noi lavoriamo con tantissime diverse discipline parapsicologiche, ho qui tanta roba e ho deciso piano piano di portare l'occhio qui da me nel centro e associare aromi, profumi, fracanze a diversi oggetti. E questa volta avevo scelto prima nel tutto, non faccio vedere questo profumo ancora presto, qualcosa legato al sciamanesimo. Sì, di nuovo sciamanesimo. Prenderò in mano questo strumento. Questo è il tamburo sciamanico, il tamburo siberiano. Sapete che da noi in Siberia è abbastanza freddo e vedono pochissimo sole, ma lavorano molto con l'energia solare e potete vedere qui queste sprigole che infatti richiamano l'immagine del sole. Il tamburo ovviamente è fatto di pelle di animale, ma per poter tenere questo questo tamburo in ordine a volte bisogna passare sopra la pelle nell'olio. Avevo messo qua diversi tipi di olio e olio di mandorla e olio comunque ero profumato, non mi ricordo se era lavando o qualcos'altro. E adesso questa pelle, nonostante è abbastanza forte ancora come profumo, il tamburo non è nuovo. Più si consuma la pelle, meno ha questo profumo pronunciato di animaesco. Però adesso, per non fare le crepe, per non seccare la pelle e farlo suonare così come si deve, bisogna passare ogni tanto all'olio. E adesso questo tamburo ha un profumo molto particolare. Penne, ma anche le note ambrate, muschio, sembra anche un po' di gesso vino, ma non è quello lì. E paciuli, paciuli e cardamomo, come anche il muschio di bosco, porta a noi di pensare in una certa circostanza in quale il sciamano sta lavorando con il proprio tamburo. L'aroma che avevo scelto associato a questo strumento è di Tom Ford, che si chiama ombre leather. Vuol dire una pelle un po' sfumata. In questo profumo, secondo me, c'è tutto quello che riguarda il mio tamburo. Ci sono paciuli, c'è la pelle ovviamente, c'è il muschio, c'è anche un po' di ambra, tanto per addolcire un pochettino. E questo profumo di ambra molto dolce, si sente proprio come un retro gusto. Dà questa dolcezza che mi ricorda proprio olio che avevo messo sopra il tamburo. Molto buono, ma va bene anche per non usare, non è che tutti associano al tamburo, no. È molto bello portarlo, tra l'altro, in autunno, quando cominceremo a mettere giacche di pelle, anche quella non vera, soprattutto quella pelle non vera. Però un adore di questo genere mi porta anche a un'associazione con la moto, un casco, venga. Non è solo da uomo, è un unisex, a ciò vi consiglio. L'altro profumo sempre legato alla pelle. Oggi ho portato tutti i profumi legati a lavoro di pelle. Un po' più dolce. Molto, molto dolce, tenero. Guardate cosa vi ho portato. Vedete? Questo piccolo borsellino di pelle, di solito i sciamani usano per portare dentro il tabacco, oppure varie erbette. Possono essere erbette di campo, ma possono essere erbette anche molto forte, quasi medicinale. Come vedete, ho messo qui il bastoncino di salda, che si usa per la purificazione dell'ambiente o per la purificazione del posto sacro dell'altare del sciamano. E così, mettendo nella pelle delle erbe, tutto insieme dà un profumo un po' dolce, perché chi dici che devono essere solo erbe? Possono essere anche i fiori, vero? e allora dà qualcosa di molto dolce, di pelle, ma dall'altra parte anche un profumo di erba, tutto insieme. Molto bello e tra l'altro, visto che lo sciamano lo usa spesso, lo tiene in mano, c'è anche un odore della presenza umana, non so come dire, la presenza umana. E nell'associazione di questo oggetto, ho scelto che il profumo di Valentino è un profumo da uomo che si chiama proprio Valentino. Un po' dolce, molto tenero rispetto all'altra pelle di Tom Ford. C'è dentro anche salvia, per quello vi ho mostrato il bastoncino di salvia. Però è addolcito un po' con la vaniglia, un po' con le noti agrude, agrumi, mi sembra un mandarino. E tutto insieme crea un profumo molto simile a questo, ma è molto umano. Molto umano perché si sente proprio la presenza della persona, e non come in questo profumo, quando sente solo la presenza per me di tamburo. Invece qui è diverso, è molto diverso. Buonissimo. One minute vi consiglio, ma anche le donne. Secondo me, anche se è scritto che è un profumo da uomo, secondo me è molto adatto anche alle donne, quelli più forti. Io, per esempio, ne ho metto volentieri. Una volta è stato regalato a mio marito, ma... Ah, non ho mai, sono praticamente solo il suo io. Ok. L'altro, anche molto dolce come profumo, è legato a tutta altra storia della pelle. One. Ah. Ho soltanto il campioncino, perché non ho tutto il profumo intero. Guardate, questo è del marchio B.D.C.A.M. E si chiama... La crema di pelle. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui la pelle è già molto dolce, ancora più dolce che da Valentino. E in questa pelle noi sentiamo molta presenza umana. il muschio, non quello del bosco, ma proprio il muschio che riguarda la pelle, la pelle umana, perché è un po' fresca, si sente proprio qualcosa di pulito. e in questo profumo, ho discusato sopra, e in questo profumo noi possiamo sentire anche un tocco di... non tanto pelle, ma puoi. Anche qui c'è un po' di vaniglia, c'è pepe rosa, sandalo, e... mi sembra che c'è anche ananas per dare la freschezza. In tutto insieme, questo cuoio diventa molto morbido e mi ha ricordato subito questo. È un diario. Un diario di pelle dove lo sciamano sicuramente scrive tutto quello che gli arriva come ispirazione dopo aver fatto qualche rituale. O magari può scrivere qui le fasi lunari, o comunque fare qualche... qualche disegno del suo animale che è arrivato. E visto che lo tiene spesso in mano e riempie le pagine con l'inchiostro e lo vuole bene a questo suo diario di bordo, lo sento molto più dolce che altre pelle che vi ho presentato. Anja. Incredibile. Incredibile come posso migliare, però questo è il mio diario e allora il profondo di qua che è il profondo mio, quel tocco umano di cui vi ho parlato e un tocco di... di me. Io sono quello umano che l'ho toccato. Bene. L'ultimo... L'ultimo... riguarda... legno e pelle tutto insieme dal marchio Montal che si chiama proprio Ud e... pelle. Ud è alle note legnose e un albero praticamente. Non vi vado a raccontare adesso come perché l'albero deve essere ammalato e quando spruzzano da questi animaletti e quello che lascia dentro in questo tronco comunque è un processo chimico molto interessante che lascia poi alla fine quando il legno si marcisce lo lascia un profumo molto strano e adesso lo stanno usando anche in profumeria ed ecco qui abbiamo in combinazione sia legno che anche pelle che cose mi ha ricordato ho un altro borsellino e in questo borsellino ho delle rune ma le rune anche di legno guardate legno profumato di legno ovviamente pelle ha il suo profumo di pelle e tutti insieme hanno una una combinazione incredibile però oltre questo chi dice che un sciamano non può fare arte divinatoria e fare un bel lavoretto per via che foto devo fare o a che cosa devo stare attento sceglio una luna e la interpreta però mi ha ricordato anche un altro oggetto sempre questo profumo un oggetto che è stato creato appositalmente per me da uno sciamano che mi ha regalato sempre di legno è stata incisa la testa del lupo e poi l'ho portato vuol dire che questo legno e questa pelle hanno avuto il contatto con la mia pelle e hanno avuto tutti i profumi che io mettevo addosso e visto che in questo profumo esiste non soltanto uda e pelle ma anche l'ambra e muschio muschio di pelle di pelle umana come anche nell'altro profumo di cui vi ho parlato e allora anche zafferano che dà queste sensazioni di sole di portarlo nel pomeriggio nella forza di chiamare un animale comunque ci sono delle notte speziate e secondo me questo amureto che mi è stato fatto proprio da un umano che ha usato la sua mano e incidendo qui su questo pescidio di regno l'immagine di un lupo ha lasciato perché il suo impronte umano poi l'ho portato addosso e somiglia molto a questa profumazione bene credo che questo video vi poteva interessare ma questo non vuol dire che se associo vari profumi agli oggetti legati alla parapsicologia non vuol dire che non si può portarlo senza avere queste associazioni perché secondo me qualcuno di voi troverà altre ispirazioni per le vostre capacità altre ispirazioni per i vostri personali oggetti o divinatori o oggetti legati proprio ad artefatti che mi chiedete su voltare bene ciao ragazze ci vediamo prossima volta grazie a tutti